Il futuro si costruisce a scuola dopo anni di tagli e di riforme contraddittorie. Crediamo sia arrivato il momento di dare ad ogni scuola risorse, stabilità e fiducia. Perché crediamo che il futuro di questo Paese debba proprio ripartire dalla scuola. Abbiamo alcune emergenze da affrontare che si chiamano edilizia scolastica e dobbiamo inaugurare una nuova stagione di investimenti andando a tagliare in quei capitoli del bilancio dello Stato come per esempio la spesa corrente del Ministero della Difesa per liberare risorse e tornare ad investire intanto per mettere in sicurezza le nostre scuole. Dobbiamo anche allentare il patto di stabilità interno proprio per liberare 4 miliardi di euro che giacciono nelle casse e che possono essere investiti per aprire nuovi cantieri ed edificare nuove scuole.